Grazie, questo è un nuovo video di Brawl Stars Allora, vediamo un po' cosa fare Facciamo subito una partita senza perdere altro tempo Ok ragazzi Vediamo un pochettino Ho usato Polte perché mi sembrava L'opportunità Ehm, chi fa prima a pre... ma così non vale Però ho capito Ovviamente lo dobbiamo fare prima noi A prenderli, quelli che li abbiamo uccisi Tipo Ho capito Allora, prendiamo, prendiamo Allora, prendi perfetto Allora, prendi presto Buon vittorio! Grandi! Allora, veniamo un pochino. Ci sono 8 e il 2, che sa bene. No! Avevo detto! Dai, uccidiamo questi benedetti! No! Righetto! Sempre dietro alle spalle mi attacco! Perché sennò non sono contenti! Queste battaglie dureranno 30 mila anni! Attenzione! No! No! Come cavolo ha fatto a uccidermi? Dai! Dai che ce la faremo! Dai! Dai, prendi! Grande! Come hanno fatto a vincere? Boh, vabbè! Abbiamo fatto un'ultima partita! Anche se è persa! Però... Siamo sempre lì! Vincevamo! Poi perdevamo! Dai! Non è male come partita! Adesso facciamo un'altra partita! Nitta! Però con un diverso... Vediamo con... 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 Con chi possiamo? Possiamo fare con... Nitta! Ok! Subito! Vai così con un'altra partita! Fondamentale! Ok! C'è un bel di vita comunque Nitta! È veramente... Volto io un bel... Vai Nitta! Recupera anche velocemente... Vai! Vai! Prendilo! Prendilo! Cavolo! Ok! Siamo a tre! Molto bene! Ok! L'abbiamo presa! Buono! Prendilo! 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 Buono! Ok! Grande! Dove cavolo... Ah, io sono andando lì! Vai! Vai! Prendiamolo che sci maledetti! Dai! No! Yes! Prendiamoli! Dai! Buono! Dai! Ehi! Olè! Abbiamo vinto ragazzi! È stata una veramente splendida ragazza! Una splendida partita! Grado 5 ragazzi! Ok! Perfetto! Possiamo direttamente giocare ancora! Ehm... Ehm... Perché no? Dai! Facciamo un'altra subito... In attesa degli altri! Facciamo subito... Un'altra partita! Siamo sempre gli stessi! Credo! Perfetto! Ok! Vediamo questa partita come... Attenzione! Io l'ho ucciso... Ok! 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 Attenzione ragazzi! Dai! Ok! Toglie! Dai! Prendila! Buono! Andiamo a... Però... Cavolo quanto toglie! Cavolo quanto toglie! Vai! Neat è forte! Toglie un casino! Grandissimo! Dai che vinciamo anche questa ragazzi! Speriamo di vincerla e di portare a casa un gran traguardo! Eh! Quello toglie! Però... Vai! Cavolo! No! Guarda questo! Eh! Uccidi! No! Vai! Vai! Ok! Prendilo! Questo qua ce li ha questo maledetto! Vai! 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 No! Cavolo! E vabbè! Due persi! Uno vinta! Però dai! L'abbiamo giocata anche questa molto bene! Un po' di coppe guadagnate! Siamo a 255! Allora! Quanto dovremo sbloccare i nuovi personaggi? Allora! Vediamo un pochettino! Si sblocca! Si sblocca! Ottenendo! Un totale di 200! Come mai? Come mai? Cosa è gratuita! Ah! Ecco! Ci abbiamo un... Allora! Raro! Cosa è l'unità! Epersonale! Più 13! Più 73! Più 7! Ah! Così si.. Beh! Ehm! ゃ Notante! No! 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 unita a livello 5 grado 5. Allora ci portiamo anche gli uccelli, vedi che ci sono i tappanda, ci sono ancora 5 gen con 26 però ne abbiamo 13 però andiamo a farci fare un'altra bella battaglia va bene l'ultima e poi ci vediamo al prossimo video ragazzi e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale no abbiamo sprecato grandissimo sono furbi mi ha ucciso mentre stavo per mandare il brawls il super vai subito dai, dai, buono dai, buono, buono, buono bella, grandissima partita ole ole, ce l'abbiamo dai dai ragazzi no, no, prendili, prendili dai, dammi tutti questi bella, dammi tutto grandissimo grande prendilo, yes e abbiamo vinto bella partita e sono il migliore infatti è grande, nita ok perfetto ok ragazzi spero che il video vi è piaciuto e niente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto lo ripetiamo e attivate la campanellina delle notifiche bella a tutti ci vediamo al prossimo video bella bella